Il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti ha formalizzato presso gli uffici della Digos della Questura di Arezzo la denuncia per i volantini Novax e i commenti sulle sue pagine Facebook ricevuti nei giorni scorsi. Dopo il volantino che recitava Tanti, criminale nazista, centinaia di messaggi erano stati postati sulla sua pagina Facebook riconducibili alla sigla Vivi che identifica la frangia estremista del gruppo antivaccino. Versaglio degli attacchi nelle ultime ore anche la senatrice della Lega, Tiziana Nesini. Come ho avuto modo di ripetere, dice la Tanti, non faccio un passo indietro circa le mie convenzioni riguardo la necessità di vaccinarsi. Spero che le forze dell'ordine individuino quanto prima i responsabili. Mi aspetto una giustizia risarcitoria e riparativa. Chiederò mille euro per ogni messaggio ricevuto che poi devolverò al San Donato e mi aspetto che i responsabili vengano impiegati nella pubblica assistenza e lavori di utilità presso la terapia intensiva. Ringrazio tutti, conclude il vice sindaco dell'attenzione riservata dal prefetto Maddalena De Luca alla Digos alla Polizia Municipale. Un'attenzione ritenuta necessaria non tanto per la valanga di messaggi ricevuti quanto per le intimidazioni rinvenute nei pressi della mia abitazione che confermano una consapevolezza territoriale che richiede attenzione.